Sono Beatrice e faccio la commerciale. Il mio lavoro mi porta spesso a viaggiare a Milano e in tutto il nord d'Italia. Sono sposata con Andrea, corriamo spesso insieme. La corsa mi ha insegnato ad essere più determinata e soprattutto a trasformare i pensieri negativi in pensieri positivi. In questo percorso ho conosciuto un sacco di persone. In particolar modo ho conosciuto Abdu, che è un bambino purtroppo destinato alla sedia a rotelle. A dicembre l'ho spinto alla mezza maratona di Cittadella. Quello è stato il traguardo più bello della mia vita. Grazie a tutti.